Fano a caccia del nono successo nelle ultime dieci gare. Chieti galvanizzato dal 4-1 nel derby casalingo contro Giulianova, il Mancini ospita la delicata sfida tra la compagine di Alessandrini, assetata di primato, e i ragazzi di Ronci, orfani all'ultimo minuto del fantasista esposito. I nero-verdi in casacca bianca, seguiti sempre da una trentina di sostenitori, che si mettono al seguito dell'undici di Donato Ronci nelle gare esterne, a differenza di quanto accade all'Angelini, con la curva deserta in polemica col presidente Bellia. Per i Granata, la curva si conferma il dodicesimo uomo in campo, invece, galvanizzati tutti dalla striscia positiva e reduci dal derby con la vis. Subito Fano pericoloso al secondo minuto con un lancio perfetto per Sivilla, anticipato da Di Pietro. Clamorosa occasione per il Fano al settimo con l'angolo di Borrelli, ma Sassaroli, ad un metro dalla porta, spara alto. Ancora Fano all'ottavo con Gucci, che recupera e passa al centro per Sivilla, ma è troppo lunga e il numero uno nero-verde allontana. Chieti si conferma squadra sgorbutica. Al ventunesimo, pericolosissima la squadra abruzzese con Orlando, frenato nel passaggio verso il centro dell'area dal providenziale intervento di Nodari. Ginestra para. Il Fano passa in vantaggio con Mattia Sassaroli al ventiquattresimo. Borrelli dà la bandierina, colpo di testa di Gucci, poi Sassaroli raccoglie la ribattuta scomposta del portiere nero-verde e mette dentro. Al ventiseiesimo ancora insidioso il Fano, con il solito corner battuto da Borrelli per Gucci, che sfiora il raddoppio. Nemmeno tre minuti nella ripresa, il Fano raddoppia con Torta, che con un colpo di testa chirurgico insacca e poi va a festeggiare sotto la curva. Brutto fallaccio di Prinari su Clemente, Rosso e Chieti in dieci. Poco dopo Gucci spreca la palla per il 3-0, sbagliando da pochi passi. Al trentesimo, strepitoso è il lavoro di Gucci, che tira una sassata in porta, miracoleggia l'uno nero-verde. Il Chieti si gioca il tutto per tutto anche in dieci contro undici, ma i di tiri in porta se ne vedono veramente pochi. Al trentatresimo Gucci mette dentro su assist di Sivilla, gara strafinita. Non si sazia però il Fano, che ci riprova con un gran tiro di Sivilla, respinge i giovani portieri ospite, Sassaroli raccoglie, ma spara fuori. Sfuma il 4-0, tre secondi prima del fischio finale. Per Sivilla, nulla da fare. Per qualche minuto il Fano assapora la vetta al secondo posto, ma il 3-2 della capolista maceratese, nelle battute finali ad Agnone, riposizione Granata un gradino più giù, a quota 34. Brutto colpo per il Chieti, ma i ragazzi di Ronce e Almancini danno prova di un buon calcio al quale mancano i risultati, componente però fondamentale.